buongiorno a tutti come avete potuto sentire non ho detto ciao pulcini visto che mi aspettavo una reazione un po migliore ma non è piaciuto a tantissime persone questo nome quindi ok scusate continuo a chiamarvi in nessun modo quindi con il mio bel buongiorno a tutti allora ultimamente non so mai che video fare visto che sto facendo abbastanza cover continuo a fare video su questo per il momento anche perché volevo appunto farvi vedere tutte le tecniche che sto provando allora queste sono le cover che ho fatto vedere nello scorso video se volete vederle bene andate pure a vedere l'ultimo video che ho caricato e non è che abbia provato grandi tecniche ho provato il silicone grigio il silicone nero e quello rosa che avevo comprato penso alle beautiful molds facendo la cover a metà e per quelli che mi chiedono dove si compra il silicone si compra in ferramenta e ieri e oggi ho fatto altre cover due le ho fatte usando una tecnica simile a questa e altre due le ho fatte colorando io il silicone adesso vi faccio vedere vi spiego un attimo dunque questa la trovo molto carina ha la base verde il silicone giallo e le decorazioni verde pastello e giallo pastello allora per usare per provare a colorare questa cover questa sì questa cover ecco appena arriva il verde la luce diventa rossa togliamo questo non è verde rimetti la luce a posto vabbè comunque dicevo ho usato il silicone bianco e l'ho mischiato con un po di acrilico giallo il problema è che prima cosa e aggiungere l'acrilico lo fa indurire abbastanza il silicone seconda cosa questo ho notato solo dopo che sulla scatola c'è scritto che è silicone ad indurimento rapido quindi fate conto che io quando ero arrivata a questo punto tipo il silicone era già duro praticamente gli ultimi pezzi di silicone diciamo li ho dovuti mettere un po a caso cioè schiacciavo fortissimo e lo schiacciavo col dito proprio perché era così duro che riuscivo a schiacciarlo fortunatamente sono riuscita a far stare attaccato tutto ma ho fatto veramente fatica quindi se volete provare non usate il silicone ad indurimento rapido poi sempre colorando il silicone ho fatto questa che alla fine mi è venuta cioè mi piace troppo veramente la trovo bellissima questa allora quella di prima per il l'iPhone 5c credo una roba del genere mi chiedete sempre perché faccio cover solo per iPhone e Samsung perché di solito sono i telefoni più comuni io quindi quando ne trovo tipo dure perché devono essere rigide le cover e senza nessun nessuna decorazione con solo colore o solo trasparenti come questa le compro ditemi voi quali sono i telefoni più comuni oltre a questi magari comunque dicevo per questo silicone era questo appunto era silicone trasparente l'ho colorato con un po' di azzurro acrilico e non so se si vede secondo me dalla fotocamera non si vede ma ci ho messo anche abbastanza glitter si vede di più dal vivo comunque e questo sì anche questo si è indurito un po' di più però sono riuscita tranquillamente a finire la cover senza che si seccasse quindi ok e tra l'altro ho aggiunto meno colore infatti è un colore abbastanza delicato e mettendoci poco colore non ho esagerato l'accelerazione dell'indurimento del silicone ma come parlo vabbè e niente eccola qui ci sono varie conchiglie tutte le cose marine i colori sono sull'azzurro sul grigio e sul bianco devo dire che mi piace molto il risultato soprattutto con queste perline che ci ho messo e infine l'ultima che è per, no un attimo, questa forse era per l'iphone 6 questa era per l'iphone 6 e questa per il 5c eccola qui questa è simile a questa qui nel senso che l'ho decorata solo in parte e stavolta ci ho anche messo la glass al cioccolato ed è praticamente la colla a caldo marrone l'avevo presa sempre su quei siti che vendono le cose, le decorazioni per il decodent, le varie panne colorate eccetera e questa qui ci ho messo varie decorazioni in fimo sono tutte in fimo tranne questa, la ciambellina e questo che l'avevo, scusate il telefono e questa che l'avevo proprio comprato e anche questa mi piace tantissimo e voilà, queste sono tutte le tecniche che ho provato in questi giorni ne sto facendo un bel po', mi piacciono tanto cioè fate conto che questo lo posso già toccare e l'ho finita tipo 10 minuti fa questa invece una volta finita di mettere le decorazioni la toccavo così e non mi appiccicavo per niente quindi non so come mai restano attaccate però sono belle solide va bene, spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere quale vi piace di più io vi mando un bacione ciao ciao